Questa è Chloe, la cugina di Peppa e George. Ma dove è finito il nuovo cugino? Eccolo, il vostro cuginetto! Il nuovo cugino è un maialino molto piccolo. Oh, è un vero amore questo piccolino. È una femmina per caso? No, è maschio purtroppo. Speravo fosse una femmina. Anch'io. George è contento che il bambino sia un maschio. Linosauro! Ah, mi hai fatto paura! George adora il suo dinosauro. Soprattutto ora che ha i denti puliti. Si crescono davvero fino a 12 centimetri. Ecco gli animali marini. Chi nascerà per primo? Liberali tutti in edicola.